Sei a capo della tua azienda o ti comporti da dipendente? Rispondi a queste tre domande. Ti occupi in prima persona del rapporto con i clienti? Credi di essere un ottimo venditore? Sei spesso operativo? Se la risposta è sì, mi dispiace, non sei a capo della tua azienda. Ma sei solo un dipendente della tua stessa azienda. Staccarsi dall'operatività è un processo, è un processo. Alle volte anche lungo. Anch'io ho iniziato come venditore. Adoravo andare dai clienti. Per me la vendita era adrenalina pura. Ma a un certo punto ho dovuto mollare il colpo. Perché l'azienda non sarebbe andata da nessuna parte se fossi rimasto a fare il venditore. Non credi a quello che dico? Da quando mi sono staccato dall'operatività, la mia azienda è passata da 41 a 120 milioni. Adoravo a un certo punto ho. Adoravo a un errore. Grazie a tutti.